Come si fa a sostenere il fatto che una direzione del personale sia proattiva che per quello che capisco vuol dire anche riuscire a seguire queste emergenze, emergenze proprio nel senso di cose che vengono dal basso, che esistono ma che non sappiamo cogliere più di tanto. Buon pomeriggio a tutti innanzitutto. Allora una prima riflessione che mi viene ascoltandoti e proprio ragionando sul ruolo della direzione del personale è la capacità ogni tanto che noi abbiamo, parlo come direzione del personale, di leggere, di utilizzare, di creare, comunque di utilizzare strumenti all'interno delle nostre aziende che ci aiutino veramente a capire qual è il sentimento presente all'interno dell'organizzazione. Ogni tanto l'idea di utilizzare anche modelli precostituiti non ci aiuta tanto proprio a lavorare su qual è la cultura dell'organizzazione e quali possono essere le esigenze. Quindi questo diventa un primo elemento di attenzione. I modelli nazionali, internazionali, i benchmark, l'esigenza costante del confronto ogni tanto e quindi di quello che fa l'altro ci fa perdere un po' l'idea di quello che siamo noi come azienda. Sì, perché in fondo in qualche modo almeno altrettanto come confrontarsi con gli altri conta confrontarsi con se stessi. Con se stessi e quindi ogni tanto anche l'attenzione che noi portiamo rispetto poi al fatto che in questo caso io faccio il mestiere del consulente e quindi per definizione lavoro su modelli eccetera è quello però di ricordare alle direzioni del personale che non si può prescindere dalla propria cultura organizzativa e dalla propria storia aziendale e che quindi alle volte anche modelli e strumenti sofisticati se inseriti all'interno di una cultura organizzativa e di una storia che non li recepiscono e non è assolutamente un giudizio di valore possono essere controproducenti. Quindi la tua considerazione mi fa innanzitutto pensare proprio a conosco come direzione del personale, conosco la mia storia organizzativa e vivo la mia cultura. Chi ha seguito questa mattina la tavola rotonda e ha sentito tra gli interventi il direttore del personale di S. Lunga credo che pur essendoli da pochi mesi trasmetteva e trasudava cultura organizzativa. Quindi questo è un primo elemento di riflessione. Il secondo elemento di riflessione è rispetto alle parole che tu hai citato che sono comunicazione, collaborazione e poi cliente. Essendo un'azienda retail credo che da questo punto di vista chi ha risposto a questa analisi di clima abbia lanciato un campanello d'allarme molto probabilmente. E questo diventa un elemento di attenzione. Il tema della comunicazione, il tema della collaborazione richiamano secondo me uno degli aspetti su cui la direzione risorse umana in una logica di proattività è tenuta a lavorare. Noi abbiamo fatto recentemente un'analisi su quali sono le priorità della… ah sì non funziona il tempo. No ma mi sono… per questo non è che stessi rispondendo a una telefonata, mi sono attrezzato per controllare da solo il tempo. Noi abbiamo fatto una ricerca all'inizio di quest'anno sulle priorità della direzione HR proprio nel 2014. E il tema della comunicazione, il tema della motivazione delle persone, della collaborazione è un tema che le direzioni del personale considerano un tema chiave. Io penso che questo sia un'area di lavoro per la direzione HR molto importante proprio per esercitare il suo ruolo. In una logica dove la direzione HR forse più che presidiare strumenti e modelli dovrebbe in qualche modo contribuire a lavorare nel processo aziendale e nel processo aziendale. Lavorare sulla comunicazione e lavorare sulla collaborazione vuol dire chiedere alla direzione risorse umane di dare un contributo all'interno dei processi aziendali perché alcuni meccanismi vengano facilitati. Un altro elemento che mi richiama la parola comunicazione e collaborazione è ad esempio uno dei temi molto sentiti all'interno di un'azienda che è il confronto capo e collaboratore. Quindi anche qui una direzione risorse umane che aiuta le proprie persone a lavorare sui fondamentali partendo ad esempio dal facilitare il confronto tra capo e collaboratore è una direzione risorse umane proattiva. Quindi io credo che quando le persone scrivono comunicazione e collaborazione richiamino alla direzione risorse umane un ruolo di attore nell'agevolare dei processi di comunicazione e dei processi di creazione di valore. Un'azienda retail può ad esempio lavorare moltissimo sul miglioramento della qualità. La collaborazione può essere una collaborazione molto concreta proprio perché si possono ad esempio creare processi di miglioramento della qualità. Quindi questo è quello che istintivamente mi viene alle tue considerazioni. Le ho chiesto questo perché so che siccome ci conosciamo che ha lavorato anni in azienda è nella direzione del personale e che poi adesso svolge un lavoro di ricerche, di consulenze che le permettono di capire molto bene che cos'è un'analisi di clima. Quindi può vedere i pro e i contro di questi strumenti. C'è per esempio il tema di fare qualcosa di più dell'analisi semplice diciamo così del clima ma di lavorare sullo scoprire il grado di fiducia che c'è dentro un'organizzazione. Penso che queste qui siano cose che riguardano innanzitutto l'area di presidio del direttore del personale. Sì. Allora... Coltivare la fiducia, coltivare... Sì. Sicuramente come vi dicevo il tema della motivazione delle persone della gestione del cambiamento sembra essere quest'anno rispetto all'anno precedente dove le direzioni risorse umane ponevano ai primi posti il tema dell'efficientamento una delle priorità. Interrogarsi su qual è lo stato d'animo della propria organizzazione su qual è il vissuto in questo momento presente all'interno dell'azienda è un elemento molto importante. Ognuno di noi lavora in un'azienda e magari le nostre aziende hanno vissuto momenti di riorganizzazione e di ristrutturazione. E comunque la dimensione della riorganizzazione è una dimensione costante, quindi non è più un'occasione, è una costante. Ad esempio capire come le persone vivono la riorganizzazione, come le persone vivono il cambiamento e come si può supportarle nel gestire il cambiamento diventa un aspetto molto rilevante. Poi noi facciamo una distinzione tra ciò che clima, quindi le analisi di clima è in una logica più tattica, per cui nell'analisi di clima si va a misurare il livello della febbre, perché si va a capire se le persone sono contenti o non contenti di determinate cose. Quando si lavora invece sull'analisi della fiducia, del trust, io più che andare a misurare il livello della febbre vado a capire che cosa può determinare il fatto di avere la febbre o meno. Quindi arrivo a dei livelli di analisi più profonda per cercare di aiutare poi l'azienda a capire qual sarà l'impatto delle proprie decisioni aziendali. Quello che secondo me è rilevante in una direzione del personale, che vuole essere una direzione del personale proattiva, e il collega di prima credo che sia stata una premessa straordinaria a questo, è proprio il tema del, non so se è giusto dire riportare al centro la persona, perché non è che le persone non sono al centro. Sì, poi bisogna sempre provare a dirlo con altre parole. Di considerare comunque le persone un aspetto e un valore rilevante per l'organizzazione. E capire e creare delle dinamiche di ascolto all'interno dell'organizzazione, che possono essere più o meno profonde, non è né giusto né sbagliato una cosa o l'altra, ma comunque delle dinamiche di ascolto diventa un elemento molto importante, perché nell'ascolto posso trovare degli elementi che mi permettono poi di costruire delle risposte. Quindi la costruzione proprio della risposta e il lavorare per processi credo che sia uno degli elementi su cui chi lavora all'interno della direzione sorsumane può dare un contributo molto rilevante. Credo che tu conosca, adesso io ho raccontato questa storia di queste tre parole perché è una cosa che è successa in questi giorni, anzi l'azienda di cui non li ha ancora questi risultati, però tu ne conoscerai moltissime, cioè di narrazioni che ci aiutano un po' a capire come, non so, chi lavora nel personale può scoprire delle cose importanti. Allora, secondo me chi lavora nel personale può scoprire delle cose importanti cercando di realizzare nella propria azienda, dando delle risposte nella propria azienda mettendosi costantemente, come posso dire, in confronto, cercando costantemente il confronto. Vi faccio un esempio concreto. In questo periodo noi stiamo lavorando molto sui temi del performance management e quando sentiamo questa parola performance management credo che ognuno di noi dica oddio il performance management ancora una volta, quindi competenze, invio, obiettivi eccetera. Uno degli aspetti che io ho vissuto è che mentre qualche anno fa, tre o quattro anni fa, quando un'azienda ci interrogava su queste tematiche, il tema era datemi lo strumento, creiamo le competenze, definiamo gli obiettivi eccetera. In questo momento il tema dell'azienda è, io spesso come direzione HR ho le idee abbastanza chiare su dove voglio andare, ho le competenze al mio interno per fare queste cose, ma ho bisogno di un accompagnamento nel processo e nella gestione del confronto, che è un elemento molto molto rilevante, perché nulla si cala veramente più dall'alto e l'organizzazione è cresciuta ed è cresciuta sia nei livelli più alti ma anche nei livelli più operativi e quindi quello che viene disegnato, quello che viene creato e quello che viene ragionato viene costantemente messo in sana discussione. Ecco questo è un punto su cui soffermarci credo, forse allora è che si può anche dire che a delle promesse facili la gente non ci crede più. Assolutamente, ma è giusto che sia così. Ecco c'è un po' di sfiducia, se vogliamo di diffidenza, ma anche di cautela nel prendere per buone i paroloni, quindi non funziona neanche più un certo tipo di formazione pomposa che serve solo a casare, no? Oppure, ecco, non so che idea fai tu, perché mi sembrava legato. Credo, io ho ascoltato da stamattina con molto interesse gli interventi dei relatori, di tutti i relatori e sicuramente mi sono anche segnata alcune parole chiave. Faccio una riflessione un pochino più di carattere generale per poi entrare nel merito della tua domanda. Ma poi anche non rispondere alla mia domanda, era solo uno. Allora, ho sentito parlare ad esempio di talenti, ho sentito parlare di carriera dicendo la carriera esiste, la carriera non esiste più, eccetera. Quindi il tutto è anche un po' il contrario di tutto, se volete, ma com'è giusto che sia, perché appunto ognuno di noi porta la propria esperienza. Credo che in questo momento ci sia una evoluzione e un ripensare quello che, ad esempio, sono i modelli di sviluppo presenti all'interno dell'organizzazione. Proprio perché alcune parole con le quali noi siamo cresciuti, io sono della generazione X, ho praticamente quasi 50 anni, quindi da questo punto di vista sono cresciuta con un certo tipo di background, proprio noi siamo cresciuti in un certo modo, la riflessione che adesso nelle aziende si fa è quella di rivedere i modelli di sviluppo, noi li chiamiamo, io li chiamo, non so se è la parola giusta, come più modelli di placement. Cioè essere una persona all'interno dell'organizzazione porta la direzione risorse umane a pensare come può evolvere quella persona all'interno dell'organizzazione potenzialmente spostandosi nell'organizzazione, non necessariamente crescendo, ma ricollocandosi all'interno dell'organizzazione. I ruoli evolvono nelle aziende, ma i ruoli si dissolvono anche all'interno delle aziende, perché cambia, cambia il mercato e l'organizzazione non può non modificarsi. Ma il fatto che si dissolvano i ruoli non porta il dissolvimento della persona. Quindi se la persona è un valore, le aziende stanno lavorando per, ad esempio, integrare competenze, per fare in modo che le persone siano più fungibili rispetto a quanto potevano essere prima. Prima si parlava di emplacement. Io parlerei anche di emplacement, ad esempio. Quindi non solo una risposta rispetto all'essere fuori, ma all'essere dentro in un modo diverso. Quindi anche la formazione è una formazione che viene costruita mirata all'esigenza, perché io posso avere l'esigenza appunto di lavorare su ruoli strategici e lì ho bisogno di mettere persone che abbiano delle caratteristiche per ricoprirli e queste persone le posso trovare in tanti posti all'interno dell'organizzazione. E quindi la formazione si tara in funzione delle esigenze di queste persone. Posso avere esigenza di ricollocare le persone all'interno delle aziende e quindi di creare percorsi professionali, di formazione professionale all'interno dell'organizzazione. Ecco, io credo per essere per la seria direzione risorse umane e proattiva che questa sia una frontiera per la direzione risorse umane. Quindi vivere l'azienda come appunto fatta di ruoli e di persone che in funzione di come cambia il mercato e di come cambia l'organizzazione e risposta al mercato cerca di muovere le persone valorizzandone il più possibile il contributo e mettendone in condizione di fare mestieri anche diversi. Si parla molto sui giornali e nella discussione sui temi del lavoro di politiche attive che vengono sempre pensate nel sistema paese. Ecco, potrebbe essere che nel nostro contesto economico e sociale per come l'organizzazione è un punto di riferimento la politica attiva parte all'interno dell'organizzazione stessa, parte all'interno dell'azienda stessa. E quindi per questo aspetto la direzione risorse umane può giocare un ruolo molto 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 importante. Primo per far capire questo punto di vista al proprio capo, al proprio ministro, al top management dell'azienda che alle volte è avulso da qualsiasi contesto e secondo per rendersi veramente attiva e attore di un processo di cambiamento molto molto forte. Mi rifaccio un po' a una parola che ha utilizzato il collega precedente e che credo che anche la sua esperienza professionale dimostri. Ci vuole un po' di coraggio. Ci vuole un po' di coraggio. Ecco, visto come pari. Siamo qui per darcelo anche a vicenda. Certo. Senti, proprio per concludere, proprio per come stai parlando della direzione del personale e aggiungendo anche questo aggettivo. Tu adesso che lavori più come consulente, hai mai nostalgia di quando lavoravi nella direzione del personale o facevi il direttore del personale? Allora, sono esperienze diverse e rifarei lo stesso percorso personalmente. Io ho lavorato per 12 anni in azienda, dall'89 all'inizio degli anni 2000, occupandomi sempre di persone. Sono stata anche nel business, quindi ho fatto anche una parte commerciale, eccetera, e sono cresciuta entrando come neolaureata, poi man mano sono cresciuta nelle esperienze. Allora, stare nell'azienda mi ha insegnato a, primo, l'ascoltare, secondo, a risolvere i problemi, quindi problem solving. Stare in consulenza mi ha insegnato e mi insegna a lavorare per obiettivi, ad apprendere tantissimo, perché lavorare con le aziende è una grandissima fonte di apprendimento, al di là del fatto che anche tu cerchi di trasmettere know-how, però è veramente uno scambio reciproco e ha una costante sfida con se stessi, perché le aziende ti pongono problemi, temi, sfide che sono sempre diverse l'una dall'altra.